Ciao a tutti, bentornati qui in un nuovo video in cui vi parlo di un evento nerd. Infatti oggi sono qui per parlarvi del Foggia Nerd. E' appunto un evento come quello dei comics di cui vi ho già parlato e che questa volta si è tenuto a Foggia il 6 e il 7 maggio scorso. C'erano tantissime bancarelle, tantissimi cosplay, tantissime attività da fare e inoltre si potevano incontrare anche degli youtuber famosi. Adesso vi lascio alla parte del video in cui vi mostro un pochino le bancarelle eccetera e poi ci rivediamo alla fine per LOL. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci qui. Questa volta ho fatto tre acquisti. Cominciamo dal più piccolo. E' questa adorabile spilletta tutta bianca con sopra un onigiri con una faccia tenerissima. Poi ho comprato un'adorabile minifigure di Sailor Moon. Queste qui si possono trovare in delle blind bag ma lì erano esposte così che ognuno poteva scegliere la sua preferita. Io ho scelto Sailor Moon con questa faccina kawaii e con questo kimono rosa a fiori. Per mantenerla su è attaccata ad uno stand da cui si può rimuovere. Ultimo acquisto, un'altra cosa a tema Sailor Moon, cioè questa calamita. Ecco qui vedete si può attaccare dove si vuole. C'erano tantissimi quadretti con tantissimi soggetti e si poteva sceglierne uno e applicare la calamita. Io ho scelto questo qui con Sailor Moon durante la trasformazione. Bellissimo! La stampa è fatta molto bene ed è molto particolare anche per l'effetto bruciacchiato sui lati. Che dire, mi è piaciuto tutto moltissimo, soprattutto i miei acquisti. Anche questo video finisce qui e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao! Se questo video vi è piaciuto mettete un like e se i temi del mio canale vi interessano non dimenticate di iscrivervi. Alla prossima!